La Palestina virtuale scatena presto dibattiti e polemiche. L'iniziativa di Google, che la settimana scorsa ha sostituito nella tagline del dominio .ps Palestina a territori palestinesi, è accolta con soddisfazione a Ramallah, mentre Israele protesta ufficialmente. Suppongo che le persone interessate a visitare la Palestina, che vogliono conoscerla, quando cercano Palestina su Google non trovino informazioni, per cui questa mossa può aiutarci. Un contributo alla causa palestinese per l'ANP. È importante perché apre le porte alle imprese, perché infrange le barriere della paura e dell'esitazione, invita la Palestina in una cartina virtuale. Il ministero degli esteri israeliano ha inviato una lettera a Google chiedendogli di rivedere la scelta, perché può pregiudicare i negoziati di pace. Possono digitare su Google l'isola che non c'è, se vogliono, non c'è problema, ma ci si chiede perché un'azienda privata online intenda occuparsi di politica internazionale, di diplomazia internazionale, facendolo inoltre su un tema controverso. L'idea di uno Stato palestinese è al centro di una controversia tra ONU e Israele. Lo scorso novembre l'Assemblea generale ha infatti riconosciuto l'ANP come Stato osservatore non membro. I negoziati di pace sono fermi dal 2010 dalla moratoria degli insediamenti israeliani che ha spinto i palestinesi a ritirarsi.